Salve, sono Gennaro De Stefano dell'Amica Geniale, sono qui alla quinta edizione di Progetto Cinema organizzato da Nello Favicchio. Sono molto contento di partecipare stasera perché è il mio primo evento dopo il Covid, quindi sono veramente felice. Sono contento di essere qui proprio perché Progetto Cinema è un progetto che riguarda il cinema, che sta crescendo tanto grazie a Nello. E' bello che quest'anno siamo qui, è la seconda volta che sono ospite di questo progetto, si è spostato e si fa in un cinema, quindi è molto bello. Credo sia molto importante sostenere il cinema e progetti come questo che avvicinano i giovani al cinema credo debbano avere la giusta risonanza, quindi sono contentissimo di partecipare.